Lavoravano in nero e dormivano e cucinavano in una sola stanza. Questi i ritmi di lavoro che alcuni operai asiatici erano costretti a sopportare per lavorare in due laboratori di vestiti della bassa padovana. I carabinieri della compagnia di Est hanno condotto alcuni controlli nelle sedi delle due imprese tessili gestite da cittadini cinesi. Sono stati identificati complessivamente 13 lavoratori asiatici e i due titolari, un 41enne e un 54enne, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per omessi versamenti contributivi nei confronti dei dipendenti. Sono state accertate anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, carenze sulla prevenzione incendi e sulle macchine utilizzate prive delle sicurezze per evitare infortuni. Di formità urbanistiche inoltre, come la presenza di una cucina all'interno dei locali adibiti al laboratorio. All'attività ispettiva hanno collaborato i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Padova e i vigili del fuoco, la polizia locale e lo Spisal.